Benvenuti nella mia beauty. Oggi vi racconto la mia storia e le mie passioni e come questo hanno permesso di realizzare il mio sogno, l'apertura del mio store e il mio concetto di moda. La mia passione per la moda e i tessuti nasce fin da piccolo. Mercati, negozi di abbigliamento e quella curiosità giovanile di scoprire e di sapere è stata la base che mi ha permesso nel tempo di aprire i miei orizzonti, affacciandomi al mondo della moda. Da dieci anni curò ogni dettaglio dei miei clienti con dedizione e passione. Tutto questo è Visone Fabio Store.